ciao a tutti ragazzi breve intro per la recensione allora oggi ci vediamo su twitch alle 16 in punto per montare questo signorino qui per finire di montare questo signorino qui avevamo iniziato di montare nell'altra live sempre insieme a giada trovate il link del mio canale twitch qui sotto nella descrizione del video tranquilli è tutto gratis io vi lascio alla recensione del video mi raccomando ci vediamo più tardi alle 16 ed eccoci qua ragazzi finalmente con piccolo the proud namehan direttamente dalla linea sh figures dedicata a dragon ball z quindi la nuova versione di piccolo eccola qui nella sua confezione questa è la parte frontale questo qui è uno dei lati questo qui è l'altro lato parte superiore parte inferiore questa qui è la parte posteriore invece della confezione ragazzi come sempre vi ricordo se volesse acquistare questa o tante altre action figure le potete trovare nel mio sito ara shop che trovate nel link qui sotto nella descrizione di youtube ma direi di non perdere altro tempo sulla confezione andiamo subito a vedere la nostra figure fuori da essa ed ecco qui il nostro piccolo con tutti i suoi accessori in tutta la sua fierezza allora andiamo subito a vederli cominciamo dalle mani intercambiabili ragazzi sono queste due qui con il palmo spalancato molto ben realizzate anche il painting delle unghie è preciso poi abbiamo queste due qui vedete con il palmo aperto ecco qui anche queste molto ben realizzate e poi abbiamo questa qui singola con diciamo la mossa del cannone speciale che non poteva assolutamente mancare il makenko sapo per il resto vediamo cosa c'è da questo lato poi andiamo a vedere le teste i visi allora abbiamo questi due particolari accessori che si mettono praticamente dietro al mantello perché sono due c'è questo qui più piccolo che serve naturalmente per inserire la base stessa cosa per questo però sono di diversa dimensione perché questo piccolo si inserisce metti la base il mantello si può muovere invece questo grande ve lo faccio vedere praticamente il mantello si alza perché è articolato e inserendo questo praticamente lo si va a bloccare vedete in questa posizione non si muove più quindi serve anche per posare il mantello in questo modo senza sforzare l'articolazione poi qui sotto invece si inserisce la base al contrario al contrario questo qui più piccolino si può inserire vedete in queste fessure che ci sono ma consente di muovere anche il mantello inserendo comunque la basetta quindi una figata questa doppia opzione peccato che però non sia inclusa la basetta come al solito non riescono mai a fare questo ulteriore sforzo anche se questa figur devo dire che è già molto molto ricca di accessori a proposito abbiamo le immancabili braccia concerte eccole qui molto facili da intercambiare comunque ben realizzato anche qui il painting poi abbiamo questo che è semplicemente il pezzo di tuta che serve a chiudere quella parte che abbiamo visto prima quando rimuoviamo il mantello perché ovviamente si può rimuovere e poi abbiamo questa ragazzi che è una chicca assurda ovvero il braccio mozzato con anche le goccioline di sangue ragazzi fighissimo si dovrebbe mettere da questo lato però volendo si può mettere anche dall'altro lato senza alcun tipo di problema poi lo vedremo ora andiamo a vedere i visi intercambiabili le teste intercambiabili allora abbiamo questa qui che è un viso intercambiabile con il cappello perché il cappello si rimuove appunto si può mettere o su questa o su quella che è montata sulla nostra figo comunque devo dire che l'espressione è molto molto ben realizzata come vedete sta urlando e guardando verso un lato forse questo è uno dei milioni in realtà poi abbiamo questa testa senza il cappello anche questo molto molto figo devo dire vedete si sta sforzando può essere tranquillamente usato quando spara il cannone speciale vedete tutte le venature le vene sulla testa figata incredibile molto molto ben fatto per il resto abbiamo quest'altro urlante anche questo realizzazione a dir poco impeccabile devo dire forse gli occhi sono un tantino troppo vicini ma neanche tanto devo dire che anche questa rappresentazione di piccolo ci sta e qui ragazzi abbiamo la testa intercambiabile invece con espressione seria questa qui devo dire che forse è la peggiore rispetto a quelle che abbiamo visto prima però però devo dire che tutto sommato ci sta forse gli occhi sono un po' troppo vicini però per il resto anche questo fatto che hanno dato questo leggero rosso sulla bocca ci può stare ci può stare ora però andiamo a vedere il problema andiamo a vedere il problema secondo me principale di questa figure che secondo me è questo viso di base ora la telecamera forse non fa spiccare troppo il rosso che ha sulla bocca ma fidatevi che dal vivo secondo me è un po' troppo invadente il viso in generale ci sta il problema non ho capito perché hanno voluto dare appunto questo rosso sulla bocca così tanto diciamo prepotentemente potevano tranquillamente evitare lasciare addirittura la bocca verde del colore del viso comunque questo qui è il turbante il cappello diciamo turbante diciamo il termine più corretto che come vedete si può rimuovere in questo modo qui non è semplicissimo perché fa tipo un effetto ventoso infatti sto facendo un po' di fatica a rimuoverlo eccolo qui le orecchie chiaramente si piegano tranquillamente perché sono in plastica morbida comunque il fatto che si rimuova è fighissimo perché magari può aiutare in qualche pose in cui si toglie anche il turbante quindi era una cosa da far vedere necessariamente qui abbiamo il mantello come avete visto prima ha anche delle sfumature qui quindi molto molto ben fatto ed è articolato è articolato sia in questo modo sia lateralmente vedete in questo modo qui quindi si può aprire anche lateralmente qui vedete continuano le sfumature figata figata può anche ruotare leggermente per il resto ragazzi i dettagli sono comunque ben fatti la figura in sé in realtà non presenta sfumature le sfumature ci sono solo sul mantello però il painting viola mi piace molto così come anche il verde il rosa anche realizzato molto bene sulle braccia c'è questa cintura più chiara che spezza un po' e poi abbiamo vedete le caviglie anche qui ci sono i dettagli e le scarpe qui potevano fare un po' meglio potevano degnarsi di mettere qualche sfumatura o almeno di colorare vedete tutti questi segnetti che ha sulle scarpe peccato potevano fare potevano sforzarsi un attimo di più questa è la parte posteriore ma per vedere le articolazioni rimuoviamo il mantello ecco qua facciamo tutto in diretta così vedete un po' come funziona si mette questo pezzo qui a chiudere il tutto e gli inseriamo questa testa qui mettiamo questa qui urlante che secondo me è una delle migliori eccolo qua ragazzi molto molto figo devo dire anche senza il mantello ovviamente vediamo come si comportano le articolazioni adesso abbiamo la testa che può guardare verso l'alto molto bene può guardare anche verso il basso può ruotare può muoversi in questo modo qui c'è articolazione anche alla base del collo alle braccia c'è rotazione c'è la butterfly joint come vedete hanno fatto anche dei dettaglini qui sulla parte interna verde chiaramente visto dal dietro non è per niente bello da vedere però il braccio fa il movimento che deve fare poi abbiamo l'apertura laterale abbiamo rotazione qui al bicipite articolazione doppia qui al gomito piegamento al polso rotazione al polso al busto abbiamo un piegamento ottimo in avanti anche all'indietro non è male si crea un po' di gap però comunque il movimento lo fa c'è anche un piegamento qui vedete a sfera alla vita nonché piegamento laterale in questo modo nonché anche rotazione quindi ottima articolazione al busto complessiva per quanto riguarda le gambe abbiamo il movimento in avanti a 90 gradi davvero ottimo piegamento all'indietro di più che in avanti questa cosa è un po' strana devo dire abbiamo l'apertura laterale massima un'ottima apertura laterale rotazione alla parte superiore piegamento doppio al ginocchio piegamento del piede in su piegamento del piede in giù piegamento laterale della caviglia in questo modo rotazione e anche il piegamento alla punta del piede e ora ragazzi è arrivato il momento di misurare l'altezza della nostra figure e siamo praticamente sui 15 centimetri e mezzo ovvero più di 6 pollici qualcosina in più quasi 6 pollici e mezzo eccolo qui paragonato al Goku Super Saiyan Blue Sage Figures al Gohan appena uscito insieme a Piccolo e devo dire che la scala è perfetta e anche al mitico monnezza Spider-Man Marvel Select come vedete comunque è una figure più alta di un Goku base proprio come deve essere e per non farci mancare nulla ecco il confronto con la prima versione di Piccolo mai uscita nella linea SH Figures come vedete cambiano totalmente i colori questi qui sono praticamente identici a quelli dell'anime questi qui si dice siano la versione manga invece chiaramente non cambia solo quello ora ve li avvicino cambia tutto ragazzi hanno rifatto completamente tutto i visi non lo so questo qui forse per quanto riguarda questo qui serio potrebbe essere ancora superiore come viso però per tutto il resto ragazzi anche per gli altri visi secondo me non c'è paragone questo resta comunque una bella figure nonostante siano passati tanti anni come vedete anche il mantello è figo chiaramente non è articolato ha delle sfumature azzurrine mentre questo qui ha le sfumature scure e poi ripeto cambia tutto cambia tutto cambiano tutti i colori cambiano tutte le articolazioni e tutto lo scalto questo qui è molto più armonioso per esempio il pantalone questo qui invece è un po' troppo spezzato bisogna dirlo qui però vedete ci sono anche qualche dettaglio che quello nuovo non ha per esempio i segnetti colorati qui invece non ci sono insomma ragazzi bandai diciamo che fa l'occhiolino anche a chi diciamo ha la prima versione dicendo ehi compra anche questa nuova versione perché comunque è diversa ed eccolo qua ragazzi sulla basetta rotanti in una delle sue pose più iconiche praticamente ve l'ho fatto vedere in ogni sua versione adesso vi ho messo anche il braccio mozzato così non vi perdete nulla allora ragazzi mi sono dimenticato come un cretino di mettere il pezzo sulla schiena ma ormai è troppo tardi comunque ragazzi allora partiamo con i voti comparto accessori è veramente ricchissimo ok manca la basetta ok sarebbe stato fighissimo avere anche un effetto del cannone speciale però ragazzi stiamo parlando di bandai ha messo già un sacco di roba è veramente pieno un sacco di possibilità per essere posato qui devo dare un 9 e mezzo necessariamente per quanto riguarda le articolazioni sono eccezionali veramente l'unica pecca forse sono i piedi potremmo fare un pochino di più sui piedi ma proprio andare a trovare il pelo nell'uovo anche qui un 9 e mezzo pieno è devo dire necessario per quanto riguarda l'estetica ragazzi è fighissimo un'ottima rappresentazione ci sarebbero state bene delle sfumature quella soprattutto sulle scarpe che sono un po povere di dettagli e qui devo dare però comunque un 9 a me piace tantissimo nonostante nonostante il viso col rossetto si può chiamare così nonostante quel viso ragazzi secondo me è veramente un'ottima rappresentazione di piccolo comunque il voto complessivo per questa figure dato alla media ai voti precedenti per me è un 9 e mezzo non è da 10 per poco però per me è veramente un'ottima figure sono contento di averla recensita prima di aver fatto la classifica delle figure che deve ancora uscire entro fine gennaio ve l'ho provesso ma appunto volevo recensire anche questo piccolo perché potrebbe scalare un po di posizioni e come se le scalerà comunque ragazzi fatemi sapere adesso cosa ne pensate voi di questo piccolo con un commento qui sotto il like al video sempre che esistimo così come anche la condivisione e se volesse acquistarlo se ancora disponibile non ne sono sicuro potete trovare nel mio sito arashop che trovate qui sotto nella descrizione del video detto questo noi ci vediamo alla prossima ciao dara da piccolo colizionate sempre